Fabio Retti cronologicamente è stato uno degli ultimi ad arrivare in questa San Benedettese e magari anche grazie a te che questa squadra si è ristrutturata in mezzo al campo e ha cambiato passo. Sì, sono arrivato a dicembre, non è grazie a me ma è grazie a tutti perché comunque questo è un vero gruppo, è una squadra solida e niente questa. Che cosa sai del Teramo? L'hai mai visto all'opera? Che cosa ci puoi dire? Cosa sai? Guardi, giocando sempre al nord, io comunque le squadre di Giunone che le conosco tanto, però comunque vedendo il campionato noi fino ad ora abbiamo fatto tante vittorie e comunque anche questo non è bastato comunque a superarli, quindi penso sia un'ottima squadra e comunque bisogna stare attenti per domenica. Senti, la nostra sensazione è che al di là dell'autostima che è cresciuta molto in questo gruppo, il miglioramento in mezzo al campo con te, con Carteri, con l'inserimento anche di Carpani abbia dato in là poi a un'ulteriore svolta tecnica della squadra. Condividi questo? Sì, ma noi alla fine diciamo siamo tutti sullo stesso livello, ecco ci aiutiamo l'uno con l'altro per cercare di far bene in domenica in domenica. Per quanto riguarda questa partita, ritieni possa essere decisiva o il campionato è ancora lungo e le alternative comunque sull'esito finale ci sono. Sì, no, c'è una partita importante però non è quella decisiva perché comunque il campionato è lungo però ecco comunque è molto importante e cercheremo di far bene anche domenica. Sai che i biglietti della San Benetese sono andati polverizzati? Eh, perché comunque il tifo, io comunque un tifo così non l'avevo mai visto e quindi ci credo che comunque siano finiti subito. Senti, come mai per chiudere hai deciso di scendere di categoria, vieni dal mondo dei professionisti, lo ha fatto anche Carteri, come mai questa scelta? Eh, perché comunque sono entrate nuove regole dei giovani, queste cose qua e... Hanno tolto spazio? Sì, hanno tolto spazio però comunque ecco siamo in una società importante che ha ambizione di salire e quindi siamo contenti, io sono contento di essere qua.